Io vorrei farvi vedere adesso a che punto siamo del nostro corso. Noi stiamo elaborando, non elaborando, ci sono già elaborati, stiamo applicando alcuni canoni interpretativi. Cioè questo corso è per capire, vedere di capire qual è il nostro carisma. Per capire il carisma, per capire, o volete dire i valori oblati, o la spiritualità, o lo spirito, quello che volete, occorre lavorare con una certa metodologia. Questo corso ha come compito aiutarvi a elaborare una metodologia e a offrire degli strumenti. Io non vi do la pappa bella e fatta, cioè non vi dico il carisma oblato è questo. No, vi sto dicendo, vi do gli elementi perché ognuno di voi possa lavorare, studiare, approfondire, portare avanti la ricerca. Per far questo occorre seguire una metodologia, cioè occorre applicare i canoni dell'ermeneutica, cioè i principi dell'ermeneutica. Il primo principio dell'ermeneutica è l'autonomia dell'oggetto, cioè io devo sapere bene cosa voglio studiare, deve avere avanti tutti gli elementi per poter studiare. E noi abbiamo cominciato con questo, abbiamo cominciato col dire quale sono le fonti. Non posso dire per me il carisma è, aspetta per te, di cosa stai parlando? Del carisma di Sant'Eugenio, lo conosci Sant'Eugenio? Cosa ha detto? Cosa ha fatto? Cosa ha scritto? Quindi questa è l'autonomia dell'oggetto. Io ho davanti a me una realtà che non dipende da me. Non posso dire a me mi pare, a parte che non si dice in italiano, a me mi pare. Ma comunque, cioè prima c'è un dato oggettivo, io devo trovare l'oggettività di questo dato, devo avere gli elementi, devo sapere cosa ha scritto, cosa ha fatto, dove sono, se è esatto quello che ho in mano o se sono favole che mi hanno raccontato. Primo canone. Secondo, il contesto interpretativo, cioè io devo collocare questi scritti, questa vita nel loro contesto, devo sapere qual è l'ambiente, cosa è successo, ma anche adesso, vi ho detto, per capire, diciamo, questa regola del 66, occorre rilavorare quel quadro mentale, cosa è successo nel 66, che clima c'era, che cosa bolliva in pentola. Ho detto, per il 72, sentiamoci Celentano, bisogna ricreare quel mondo per capire cos'è successo. Così, per capire i testi del fondatore, non basta avere i testi, devo metterli nel contesto, devo sapere cos'è la rivoluzione francese, cos'è la restaurazione. Se io non ho questi parametri storici, non capisco niente di Sant'Eugenio. E non posso capire certi superiori generali se non capisco che in quel momento lì c'è la guerra fra francesi e tedeschi, e il superiore generale dice la nostra congregazione non è legata alla nazione. Lo diceva perché c'era un problema, i tedeschi erano contro i francesi, e gli obblati tedeschi erano di qua, e quelli francesi di là, e tutti e due nell'esercito, e facevano la guerra, si sparavano. Hai capito? Quindi bisogna contestualizzare sempre gli elementi, i dati. Poi oggi abbiamo visto il circolo ermeneutico. Il circolo ermeneutico è proprio un circolo, un circolo. Allora, per esempio, il nostro fondatore ha delle pagine bellissime nelle quali elogia gli obblati che si sono messi a lavorare con gli ammalati di colera in Francia, a Marsilia. Durante la peste, le pesti di colera, gli obblati sono stati eroici. Allora il fondatore scrive, ma che bravi questi obblati che lavorano negli ospedali. Io prendo questo testo, e dico, ecco gli obblati, sono quelli che lavorano negli ospedali. L'ha scritto il fondatore, l'ha detto il fondatore. Questo testo qua, circolo ermeneutico, facciamo un circolo, vediamo gli altri testi, e vediamo che non lo dice più, mai più, mai più, mai più, solo lì. Beh, allora è un momento. Non posso estrapolare questo testo da tutto il cerchio dei suoi testi. e dire, lui ha detto che, ma l'ha detto una volta, in una circostanza particolare. Quindi quel testo lì va letto, va fatto il cerchio, io devo visitare tutti i testi del fondatore per vedere se ha importanza oppure no. oppure il fondatore allora andava in campagna, aveva una casa in campagna e si ritirava là a pregare. Bellissimo. Allora l'ha detto l'obblato è ritirarsi in campagna a pregare. Fai il giro. E vedi che questo povero uomo è sempre su pelle scala a trovare la gente, è di corsa di qua e di là. Ma allora la sua vita non era ritirarsi in campagna. Cioè, quando non ne poteva più, se li tirava in campagna. Fai il circolo. Capite quello del circolo del meneutico? Cioè, circolo per capire i vari momenti e le varie... Ma poi c'è anche un altro circolo che è un circolo che parte dal fondatore e arriva a me. È quello che abbiamo visto oggi. Cioè, io non posso andare direttamente dal fondatore, devo passare attraverso gli altri e dire tu come l'hai capito, tu come l'hai capito, tu come l'hai capito, tu come l'hai capito. Cioè, vado da lui facendo un cerchio, passando attraverso tutti voi. Attraverso tutte le persone che vi ho presentato. Vai da ogni superiore generale. Non sei tu il primo che studia il carisma di Sant'Eugenio. Allora, se sei intelligente, fai un cerchio, no? E domandi agli altri come l'hanno capito, come l'hanno capito. E tu dirai, ma sì, mi pare di sì, mi pare di no. Ma almeno ascoltali, come loro l'hanno interpretato. Non posso fare un salto. È da stupidi. E poi ritorno e faccio il circolo. Torno a me. Ecco, adesso lo capisco meglio. Perché sono passato attraverso tutti loro, sono andato da lui, e poi ritorno qua. Che comprensione più profonda che ho adesso. Gli altri due li vedremo la prossima volta. Volevo farvi un esempio, no? Io su questo qui ci... Quando faccio le mie lezioni, appunto, e che spiego... Perché io faccio un corso solo sulla metodologia, proprio, no? E quindi, per spiegare questi canoni ermeneudici, io spendo un'ora su Ungaretti. Questo mio amico, no? Questo grande poeta. Tutti conoscono questo poeta? No, non tutti. Non tutti, va bene, certamente. È uno dei più grandi poeti italiani del 1900. Allora, chi non lo conosce, oggi impara la poesia più breve che esista in italiano. È la più bella, la più breve, la più bella. Il mattino mi illumino d'immenso. Allora, primo canone. L'autonomia dell'oggetto. Cioè, io devo mettermi davanti a questa poesia. Ora devo dire, ma... Io apro il libro e leggo questa poesia. Ma l'hanno copiata bene questa poesia o no? L'ho scritta così veramente o no? Eh, prima devo sapere se... Prima di dire, questa poesia mi piace, questa non mi piace. Prima, che cosa, che poesia ha fatto lui? Siamo sicuri che questa è la poesia giusta? L'autonomia dell'oggetto. Occorre rispettare quello che lui ha scritto, come l'ha scritto. Allora vedeva a studiare, farò un lavoro filologico. E allora trovo la cartolina che ha mandato a un suo amico. Dove c'è questa poesia? La prima che l'ha scritta è una poesia. L'ha scritta. E in questa cartolina c'è scritto, c'è scritto, cielo e mare, mi illumino d'immenso con un breve modo di sguardi. Questa è la prima poesia che ha scritto, su una cartolina, a un suo amico. Allora, questa è la poesia, non quell'altra. Questa poesia è, si intitola cielo e mare, non mattino. No, si intitola cielo e mare, ed è questa. Però lui poi, questa è una cartolina, non l'ha pubblicata. Quando la pubblica, in un libretto che si chiama L'Allegria, è quando la pubblica toglie questi altri due versi e rimane soltanto millumino d'immenso e cambia titolo. E diventa appunto mattino, nuovo titolo, millumino d'immenso. Allora, imparate la poesia. Leggete la poesia, su. No, no, la poesia, come l'ha pubblicata lui. Mattino, millumino d'immenso. Vedi, mattino si assona con millumino d'immenso. Quindi la poesia è mattino, millumino d'immenso. Invece no, non l'ha scritta così. Lui ha scritto mattina, millumino d'immenso. Mattina. Ma la soluzione non c'è più. Ma lui ha scritto mattina, non mattino. L'autonomia dell'oggetto. Cioè devo ricostruire la cosa così com'è. Non manipolata. Se un autore la pubblica e dice Mattino, è più logico. Mattino, millumino d'immenso. Ha manipolato il testo. Quante manipolazioni di testi noi abbiamo? O di episodi del fondatore. Dobbiamo trovare, studiare filologicamente come stanno le cose. Vi ho fatto qualche esempio, mi pare. Vi ho fatto vedere appunto che uno scritto, lo scritto del fondatore, la prima predica che fa, vi ricordate? La prima predica che lui fa alla Maddalene, pubblicata, pubblicata, c'è scritto 13 marzo. Non c'è nell'originale 13 marzo. Ce l'ha messa? Perché ce l'ha messa? Perché secondo lui era 13 marzo. Ma nel testo non c'è. Io posso contestare. Dico no, tu l'ha messa il 13 marzo perché pensavi che l'avesse scritta il mercoledì delle ceneri. Mentre l'ha detta la domenica. Non il mercoledì delle ceneri. Può essere. L'altro dice no, il mercoledì delle ceneri. Beh, ma non ce lo mettere. Hai manipolato tu un testo. Hai messo una cosa che non c'era nel testo. L'autonomia dell'oggetto. Chiaro questo principio? Qui si vede chiarissimo, no? Mattina. M'illumino d'immenso. Mattina. Perché mattina non mattino? Perché mattina è femminile. Ma che ne so io? È femminile. Quindi gli dà un senso di... Che ne so. Ognuno poi... Poi vedremo gli altri canoni per capirlo. Intanto deve essere così. Non si discute. Secondo canone. Abbiamo detto che è il contesto interpretativo. Vi ricordate? Contesto interpretativo. Allora, ma com'è che lui ha scritto... Io per capire questa poesia... Mattina. M'illumino d'immenso. Dico, ma che è una poesia questa qua? Ma che... 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 Allora mi dico, ma perché fa le poesie così corte? Ecco, contesto interpretativo. E comincio a dire, perché? La semplice perché? Perché è una reazione contro... Contro questi parolai di allora... D'Annunzio... Pascoli... L'altro chi è? Carducci... Parole, parole... Basta, basta, non ne possiamo più. Cioè, è un... Il rifiuto di tante parole... Devono trovare la parola essenziale. Poche parole, così. Quindi tu capisci il contesto culturale nel quale vive. Non solo. Ma... La poesia, l'abbiamo vista nella cartolina, è scritta il 26 gennaio 1917. Ah, spetiva, dov'è sto qua? Siamo durante la guerra. E dove siamo? C'è un posto particolare, devo andare a vedere dove è stata scritta per capirla. Per capire la poesia, devo andare a vedere il contesto, dove è stata scritta, quando, dove. E... Lui è soldato, è la prima guerra mondiale, quello qua è in trincea. Lui è in trincea. Mamma mia, è in trincea. Hanno paura, hanno fame, hanno freddo. Perché è scritta a gennaio, fa freddo. Siamo sulle montagne, fa freddo. C'è il fango. Una notte d'inferno. La mattina. La mattina. Dopo stanotte impazziti. Cosa si vede da lassù, da Santa Maria della Longa? Eccolo qua. La mattina si vede il mare così. Ma mi illumino d'immenso. Che respiro che ha fatto. Cioè, io, se non colloco quella poesia, nel suo contesto letterario, geografico, storico, non la capisco. Se capisco la situazione nella quale lui vive è che la mattina è una risurrezione. Dopo la fame, il fango, l'acqua, no? Terzo, circolo ermeneutico. Allora, io devo vedere questa poesia dove l'ha scritta, cioè negli altri suoi scritti. Allora, devo leggere tutto il libretto nel quale lui ha scritto. Ma poi, non solo, ma devo andare a vedere gli altri, come hanno letto questa poesia. Non sono mica il primo che la legge. Faccio il circolo ermeneutico e trovo, ma quanti autori che hanno scritto su questa poesia. Ma guarda qua, questa è una piccola bibliografia. Guarda qua, guarda quanti autori che scrivono sulla poesia di Angueretti. Ecco. Questo che si applica a una poesia, si applica allo studio della spiritualità, del carisma. Ci vuole l'oggettività, l'autonomia dell'oggetto. Saper bene quali sono i documenti. Ci vuole la contestualizzare. E poi, quest'altro canone, il circolo ermeneutico, quello che abbiamo fatto oggi. Siamo andati a vedere tutti gli autori che hanno scritto sulla spiritualità oblata. A questo punto, siamo pronti per applicare gli ultimi due canoni per l'interpretazione, che vedremo la prossima volta. Grazie. 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 Grazie.